Subito in vertici di maggioranza per capire la situazione della maggioranza a Palazzo San Francesco. Roberta Salvati, consigliere comunale, al termine della campagna elettorale per le regionali, chiede chiarimenti a sindacona Maria Casini. Soltato qualche giorno fa, infatti, l'assessore in quota davanti sul Mona, Antonio Angelone, si è dimesso e il capogruppo Fabio Pingua non ha lasciato dubbi sulla sua permanenza in maggioranza, considerato che non ha parlato di appoggio esterno. L'ha giunto a un assessore in meno e la maggioranza sta perdendo pezzi, incalza la Salvati. Il sindaco non può più tacere. Chiediamo chiarezza e non ultimo rimpasto di Giuda che possa dare nuovo impulso all'amministrazione comunale che deve essere in grado di dare risposte concrete alla città. La situazione va chiarita in modo tale che ognuno, me compresa, possa fare le proprie valutazioni. Una dichiarazione è quella della Salvati che lascia aperta l'ipotesi di un eventuale commissariamento. All'inizio della consigliatura la Salvati si era messa di traverso al sindaco quando era presidente dell'Assemblea PD, poi rientrata nei ranghi fino alla candidatura alle regionali. Ora, fra le altre cose, chiede il rimpasto di Giunda. Questo vorrebbe dire che anche l'assessore di riferimento a una rete di Loreto dovrebbe saltare, anche se, tornando all'ultimo rimpasto di Giunda che risale a maggio 2018, sembrerebbe che la di Loreto sia stata contattata direttamente dal sindaco per entrare in Giunta. Ma riminiscenze a parte, ora si dovrà capire quale strada prendere. Il sindaco a Maria Cassini si dice pronto al dialogo, ma la sostituzione di un assessore non è tra le primissime priorità. Le deleghe di Antonio Angelone le mantengo in mano io e non mi sembra caso in questo momento riparlare di chi inserire in Giunta, letto e sindaco da DG, nel day after delle elezioni regionali. Ora stiamo lavorando per centrare alcuni obiettivi importanti della città e la ricomposizione della Giunta sarà al centro di un dialogo con le forze politiche, chi ha se sindaco, che per il momento resta in sella.